Allora benvenuti, scusate qualche piccolo aggiustamento tecnico, forse avete visto un piccolo nostro backstage qui mentre ci aggiustavamo. Comunque benvenuti alla conferenza stampa di Unicef Innocenti Film Festival, la seconda edizione di un primo e unico festival cinematografico dedicato ai temi dell'infanzia. Questa conferenza stampa si tiene in doppia lingua, italiano e inglese, in quanto il festival è internazionale, Unicef è un organismo internazionale, quindi abbiamo qui il nostro collega che ora ci fa la traduzione. Grazie. Ok, diamo il benvenuto ai nostri ospiti, al presidente della Fondazione Sistema Toscana che collabora e che, come dire, ospita questo festival qui al cinema, la Compagnia di Firenze, un organismo regionale che, appunto, è preposto alla promozione della cultura cinematografica. Diamo poi il benvenuto a Gunilla Olson, direttrice dell'ufficio di ricerca Unicef di Firenze e a Dale Ratzstein, responsabile dell'organizzazione del festival. Poi abbiamo in collegamento il dottor Paolo Rozzera, direttore di Unicef Italia. E cominciamo proprio dal presidente della Fondazione che, come dire, come avevo premesso, rappresenta in questo momento anche Regione Toscana. Prego, presidente. Un attimo. Welcome to our guests. We have Jacopo Di Passio, president of Fondazione Sistema Toscana, who also represents the region, because this is the body that hosts the festival here at the Cinema La Compagnia. and the Fondazione Sistema Toscana promotes film culture here in Tuscany. Then I would also like to welcome Gunilla Olson, director of the Unicef Office of Research in Ocente here in Florence. Welcome also to Dale Ratzstein, chief communication and organization of the film festival. And we also have Mr. Paolo Rozzera, who is connected from Rome, director of Unicef Italia. But let's start from Jacopo Di Passio, president of the Fondazione Sistema Toscana. Sì, noi siamo particolarmente orgogliosi ed emozionati nell'ospitare questa seconda edizione di un festival, che è uno dei festival che ospitiamo abitualmente per le nostre attività istituzionali, come Casa del Cinema della Toscana, voluta fortemente dalla regione, proprio per poter rappresentare tutto il cinema di testimonianza sociale, civile, quello che racconta la nostra dimensione quotidiana, fuori dai temi dell'intrattenimento classico, cui l'attività cinematografica normalmente è rivolta. We are very proud and excited to host the second edition of the UNICEF Innocenti Film Festival, one of the many film festivals that are hosted here at the Cinema La Compagnia. We are the Tuscan Film Commission, a body promoted by the region of Tuscany. We organize a number of film festivals which screen films about the daily lives of people in many different countries, about social issues, so it's a bit out of the entertainment world, because we want to push people to reflect upon social, political and cultural issues around the world. Dicevo orgogliosi e emozionati perché i temi che sono trattati in questo festival, ci vedono coinvolti doppiamente, perché è un festival rivolto all'infanzia, non è cinema per l'infanzia, ma è cinema sull'infanzia, sui problemi che questa quota fondamentale del nostro oggi e del nostro futuro subisce per effetto di, potremmo dire, di una pandemia ben peggiore di quella che stiamo vivendo. E ancora di più perché il festival è ospitato a Firenze, dove c'è l'Istituto degli Innocenti, che potremmo dire è un antesignano dell'UNICEF. Ha svolto e svolge funzioni di accoglienza, di tutela nei confronti dell'infanzia, ormai da oltre mezzo millennio. E quindi unendo questi due fattori, ovviamente non ci potevamo sottrarre dall'essere presenti qui in forze per dare un segno appunto ancora più tangibile del valore di questa testimonianza sociale e civile che sta dentro i film che punteggeranno questo appuntamento. As I said, we are proud and excited to host this festival perché i topici che questo film festival avranno sono molto importanti per noi in due diverse mani. First, perché questo è un festival di risposta per la bambina. Non è un festival di risposta per i bambini, ma è per i bambini, per la generazione che rappresenta il nostro futuro, i problemi che si tratta di risposta, di risposta per la pandemia che è ancora più peggio di Covid-19. E poi questo festival è anche molto importante perché Florence hoste l'Istituto dell'Innocenti, una instituzione che sort of anticipato UNICEF perché l'Istituto dell'Innocenti ha fatto care di children e ha fatto care di children per più di 500 anni. E' un festival che si occupa della giovane umanità e rispetto ai temi della disumanità. E quindi noi dobbiamo riflettere, non solo ospitare, non solo approfondire, ma riflettere su tutte le questioni che questa carrellata di audiovisivi ci squadernerà davanti e ci aprirà ancora di più gli occhi. Noi siamo qui per questo e cerchiamo di farlo al meglio con tutte le nostre possibilità. Grazie. It is a festival about young humanity as opposed to the inhuman attitudes approaches that we see all around the world. And so we are here to reflect upon all of the topics which will be addressed by the many fields which will open our eyes on the issues of childhood and adolescence. Ringraziamo il Presidente Jacopo Di Passio. Grazie mille. Io in questo momento mi vorrei collegare con il Dottor Paolo Rozzera. Buongiorno, benvenuto. Il festival Unicef Innocenti Film Festival si tiene anche in occasione di un'importante ricorrenza, il 75esimo anniversario della fondazione proprio di Unicef, questo fondo delle Nazioni Unite dedicato all'infanzia che ha questo ufficio importantissimo a Roma. Noi vorremmo un suo intervento su questo festival, l'importanza per Unicef. Innanzitutto buongiorno a tutti, a tutti gli ospiti. È veramente un piacere poter intervenire. Chiedo scusa in anticipo perché la nostra composizione di eventi anche internazionali mi impone di staccarmi abbastanza presto, ma sono veramente contento e orgoglioso di questa seconda edizione dell'Innocenti Film Festival si rientra nel 75esimo anniversario della nascita dell'Unicef che cade esattamente l'11 dicembre. L'11 dicembre, 75 anni fa, nacque l'Unicef nel mondo e mi verrebbe da dire che purtroppo è ancora necessario l'Unicef, però tante cose sono state fatte per migliorare la vita dei bambini. Il tema della cinematografia è veramente fondamentale. Prima il Presidente Di Passio diceva che è un festival dove i bambini in qualche modo sono protagonisti e questo è vero e fondamentale. Sottolineo un evento che ci sarà tra tutti gli eventi, molto molto interessante e spingo tutti a seguirli, il 21 ottobre, proprio all'interno del festival, dalle 9.30 alle 12.30 presso il Salone Brunelleschi, il Scuolo degli Innocenti, si tratta un evento dedicato proprio alle scuole sul rapporto tra cinema e i diritti dei bambini e degli adolescenti. Ed è un evento dove i ragazzi saranno proprio protagonisti perché al termine della proiezione di un film, che adesso vi dico, i ragazzi delle scuole animeranno loro stessi il dibattito con il regista, con gli attori del film, ci sarà il portavoce di Unicef Italia, Andrea Iacomini e il film di cui vi sto parlando è Il diritto alla felicità. È un film di Claudio Rossi Massimi con Remo Girone, con Rado Fortuna, di Di Lorenz Ciumbo, Monio Vadia, Pino Calabrese ed è un film che vi invito a vedere proprio anche come simbolo di questo festival, un film dove con estrema delicatezza si vanno a toccare dei temi molto interessanti come integrazione sociale e culturale, la crescita, l'amicizia, l'amore e la salute. Scusi se la interrompo un attimo perché vorrei dare anche il tempo al nostro traduttore di poter intervenire. Mr. Paolo Rozzera, director of Unicef Italia. This film festival is also special because it takes place on the 75th anniversary of Unicef Italia and I'm very pleased to participate in this press conference and I'm very pleased that this film festival can help celebrate the 75th anniversary of Unicef which was founded on the 11th of December of 75 years ago and unfortunately we may say Unicef is still very important because there is still much need to protect children and adolescents even if steps forwards have been made during these 75 years. As Mr. Di Passio said earlier, in this festival children are the protagonists and this is fundamental and I would like in particular to mention one of the events organized during the festival which will take place on the 21st of October from 9.30am at the Salone Brunelleschi in the Instituto degli Innocenti. It will be a meeting with the school students and there will be a screening a screening of a film about children's rights a film made in Italy the filmmaker is Claudio Rossi Massimi who will be present and after the screening of the film the students will have the opportunity to speak with the director but also with some of the actors the film features actors like Moni e Ovadia for instance and it is a film about the rights of children and topics like education, growth, love, etc. Bravo, very good Concluso solamente dicendo che questo film è estremamente delicato e insegna che nella vita nulla è perduto finché ci sono la complicità, l'affetto e finché c'è un dialogo tra i grandi e i bambini e gli adolescenti e questo secondo me è un messaggio bellissimo che non dobbiamo assolutamente perdere io ricordo che anni fa quando uscirono fuori i libri digitali si diceva che la lettura era morta i libri erano morti e erano finiti c'è chi oggi dice che il cinema è finito io sono assolutamente convinto come per i libri che ci sono delle cose che hanno una magia particolare che non finiscono mai il cinema è uno strumento fantastico per trasmettere tutta una serie di valori di cui oggi abbiamo bisogno e rendere protagonisti i giovani con il cinema e per il cinema è veramente un'alchimia fantastica e che questo festival per sé che sono convinto che riuscirà nel suo intento questo film è un film molto delicato un film molto delicato un film molto delicato che insegna che non è perduto solo che c'è un dialogo tra gli adulti e gli adolescenti io mi ricordo che alcuni anni fa che i libri erano che i libri erano che i libri erano e ora ho sentire che i libri dicono la stessa cosa del cinema ma io credo che questo non è vero non all'alto io credo che il cinema sarà survive e in realtà credo che sia un grande tool un grande modo di comunicare i valori come è il caso per i film che noi vediamo durante il film festival credo che rendere i giovani protagonisti nel film sia un grande modo di parlare sui problemi e sono sicuro che questo film festival sarà successo grazie grazie mille grazie per le sue parole e per averci appunto ricordato anche di questo appuntamento allora intanto vorrei ricordare le date perché le date del festival sono 21-24 ottobre dal 22 al 24 ottobre saremo in presenza qui al Cinema La Compagnia invece ad anticipare la programmazione in presenza ci sarà questo evento online per le scuole il 21 ottobre e questo evento è organizzato anche in collaborazione con un ufficio di Fondazione Sistema Toscana che è Lanterne Magiche ora il Presidente naturalmente conosce benissimo e ci può forse anche come dire così dare un un suo accenno su quello che può essere il rapporto con le scuole di Fondazione Sistema Toscana tramite Lanterne Magiche sì e poi mi chiede Mr. Dipasio di raccontare più la relazione tra Fondazione Sistema Toscana e la Toscana Film Commission e le scuole L'Anterne Magiche è un progetto speciale che porta la luce del cinema nelle scuole essenzialmente insegna con l'ausilio delle scuole stesse e con operatori specializzati insegna i giovani a conoscere questa arte l'arte dell'audiovisivo molti dei giovani studenti dei giovanissimi non hanno mai messo piedi in un cinema ecco dobbiamo abituarli che ciò accada e a comprendere anche meccanismi che scrivono le storie attraverso l'audiovisivo ecco Lanterne Magiche luce della magia del cinema all'interno delle scuole Yes Lanterne Magiche è un'initiative che prende la luce dei film in le scuole it teaches young people to about the art the audiovisual art indeed there are many students who have never been in a cinema and we want to get them used to going to the cinema and we want to help them discover and use the language of audiovisual media benissimo e passiamo la parola alla dottoressa Maria Grazia Giuffrida la presidente dell'istituto degli innocenti benvenuta che ci ha raggiunto grazie mille grazie grazie a voi e buongiorno a tutti mi scuso per il ritardo purtroppo ho avuto un imprevisto e quindi ho fatto un po' più tardi perdonatemi io sono qui a nome dell'istituto degli innocenti a portare il mio augurio per la seconda edizione del Unicef Innocenti Film Festival una rassegna di cinema internazionale dedicata proprio all'infanzia curata dal centro di ricerca Unicef in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana Cinema La Compagnia che si tiene quest'anno in un'importante ricorrenza che sono appunto il 75esimo anniversario della fondazione di Unicef e lo faccio felice di rivederci qui tutti insieme dopo un periodo che ci ha costretti di stare veramente molto lontani e direi anche distanti e questa distanza forse è stata anzi direi è stata colmata grazie anche alle immagini che ci vengono date dalle nuove tecnologie e di questo ne dobbiamo prendere atto grazie anche appunto alle nuove tecnologie Un grazie va alle tante realtà che sono state coinvolte per questo importante festival e alle istituzioni cittadine sempre pronte a sostenere iniziative che vedono al centro l'infanzia un grazie particolare va anche alla fondazione sistema toscana cinema la compagnia realtà sempre disponibile ad aprirsi a questo tipo di iniziative dove la cultura si intreccia con i diritti Maria Grazia Giuffrida President of the Istituto degli Innocenti thank you and apologize for being a bit late I am here on behalf of the Istituto degli Innocenti to wish every success to this initiative the UNICEF Innocenti Film Festival an international film festival about childhood which is organized by the UNICEF research office Innocenti together with Fondazione Sistema Toscana and this is an important coincidence the fact that we are also celebrating the 75th anniversary since the foundation of UNICEF and I am pleased that we are all here together physically together after a long period of social distancing we have been able to fill the gap caused by this distancing thanks to the images brought by new technologies and I think we should really make the most of these new technologies exploit them and I would like to thank also the institutions the various institutions which have supported us in the organization of this film festival and which have always been very supportive of initiatives about childhood and adolescence and in particular I would also like to thank the Fondazione Sistema Toscana and Cinema La Compagnia which have always been very open to these initiatives about which combine rights and culture is an initiative that is committed from 22 to October until 24 October as has been evidenceded and will will festival with important programmation which will see 32 film proiettati and a concorso proveniente da 29 paesi diversi oltre ad altri film e cortometaggi fuori concorso è stato già ricordato che l'evento speciale si terrà in inaugurazione il 21 ottobre presso l'Istituto degli Innocenti e che vede protagonisti in collaborazione con Unicef Italia Centro di ricerca Unicef Innocenti e Lanterne Magiche Una mattinata che appunto è dedicata alle scuole sul tema del rapporto tra cinema e diritti dell'infanzia durante la quale sarà proiettato il film Il diritto alla felicità di Claudio Rossi Massimi che parla di un'amicizia tra diverse generazioni e culture un'amicizia che passa attraverso i libri che libero un appassionato venditore di volumi usati propone ad Essien un ragazzino immigrato che vive in Italia da qualche anno un modo diverso per affrontare tematiche importanti e discuterne insieme dopo con il regista e con i ragazzi di alcune scuole fiorentine ecco con questo film si riesce a mettere insieme una comunicazione che è la comunicazione che è alla base sia della lettura che dei film con di us books che propone a Essien un migrante un migrante un migrante qualche libro per leggere su diversi temi e dopo la screna ci sarà una discussion con gli studenti delle scuole perché crediamo nell'importanza della comunicazione comunicazione che è molto importante per poter tramandare quelle che sono sia le tradizioni ma nonché la cultura e mettere insieme la lettura con il film è un connubio direi ben realizzato i 32 film in concorso provenienti da 29 paesi durante questa edizione del festival saranno poi valutati da una giuria internazionale composta da produttori registi ed esperti saranno toccate tematiche importanti quali l'identità di genere le discriminazioni e le violenze con un'attenzione a tutti quei fenomeni e situazioni nati nei bambini e nei giovani durante questo anno e mezzo di pandemia al termine di alcune sessioni registi attori ed esperti del centro unice affinocenti animeranno il dibattito sui temi trattati nei film in programma tematiche cari all'istituto degli innocenti che da oltre 600 anni opera in difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti portando avanti progetti importanti sia nazionali che internazionali su questi argomenti parliamo dei diritti dei giovani con loro e lo facciamo attraverso la creatività ed il punto di vista critico sul mondo che ci viene offerto da queste produzioni cinematografiche realizzate appositamente per il festival il cinema la cultura e l'arte sono importanti strumenti di promozione dei diritti e aiutano a riflettere sui bisogni dei bambini questa iniziativa è una bella opportunità per dare ai ragazzi delle scuole una maggiore consapevolezza dei loro diritti necessaria soprattutto nel contesto di una società in rapido mutamento come quelle in cui noi viviamo grazie grazie mille diamo ora tempo a Lorenzo di tradurre communication è fondamentale per aiutare a preservare tradizioni e culture e questo film combina completamente la lettura con i film e credo che questa è una grande combinazione per aiutare a riflettere sui problemi i 32 film di 29 paesi in la competizione saranno avvenuti da un giurio un giurio un giurio made up di esperti film e attori che assessano i film che address diversi tematiche come gender identità discriminazione violenza e film payo attenzione ai problemi che i adolescenti e i adolescensi avevano durante la pandemia dopo le screire i experts del nostro centro guideranno la discussion con l'audience le Q&A session con film makers rights and to help reflect on childhood and adolescence issues and we believe and we strongly support this initiative because we think that it can help to raise public awareness and to support children in a changing world thank you thank you very much ora passiamo a proprio al focus del festival l'anima del festival è l'ufficio di ricerca innocenti e io passerei la parola a Gunilla Holson la direttrice dell'ufficio di ricerca unice finocenti a Firenze che ci descrive anche il significato di questo festival non solo per Firenze e la Toscana ma anche internazionalmente now I would like to give the floor to Gunilla Holson director of the office of research of UNICEF so you are the heart and soul of this initiative of course and we would like to ask you about the meaning of this festival also for Florence and for Tuscany buongiorno buongiorno e buonasera a tutti e mille grazie it's with a huge excitement and great pleasure that I now also get to welcome you to this press conference where in just a moment we will announce the films about childhood that have been selected for the second edition of the UNICEF Innocenti Film Festival the films that we are proudly bringing to Florence and across the globe online will take us all on an amazing world tour through the eyes of our children and with great enthusiasm and enormous pleasure that I welcome to give you welcome to this conference stamp during which we will announce the films about childhood that are selected for the second edition of the UNICEF Innocenti Film Festival I film che siamo fieri di portare a Firenze e in tutto il mondo grazie a internet ci porteranno tutti in un incredibile viaggio nel mondo attraverso gli occhi dei bambini UNICEF Office of Research Innocenti that is UNICEF's dedicated global research center has been hosted by Instituto dell'Innocenti for over 30 years an institution that has as we've already heard an almost 600 year old tradition of caring for children still you may wonder why a research center is organizing an international film festival well it's really actually very simple we believe that research at its core is learning about realities and creating knowledge and storytelling is one of the most powerful and memorable ways ever created for sharing knowledge Lunichev Office of Research Innocenti che è appunto il centro di ricerca dedicato su scala mondiale dell'UNICEF viene ospitato dall'Istituto degli Innocenti da ormai più di 30 anni Istituto degli Innocenti che è un'istituzione che come abbiamo già sentito ha più di 600 anni di tradizione nella presa in carico dell'infanzia eppure forse vi state chiedendo come mai un centro di ricerca organizzi un festival cinematografico internazionale ma la question è molto semplice noi riteniamo che la ricerca il cuore della ricerca consista nel imparare sulle varie realtà e nel creare conoscenze e la narrazione è uno dei modi più potenti più efficaci memorabili che siano mai stati creati per condividere conoscenze raccogliendo storie cinematografici di bambini da ogni parte del mondo speriamo di creare un evento speciale che ci permette di spendere tempo vicino ai bambini anche quelli in luoghi in luoghi in luoghi vogliamo riconoscere e sentire il loro gloria loro esperimenti e sogni loro 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 raccogliendo storie cinematografiche da tutto il mondo letteralmente da ogni angolo del mondo speriamo di creare quindi un evento speciale che ci consenta di trascorrere del tempo vicino ai bambini di tutto il mondo anche quelli nelle località più distanti più remote vogliamo imparare scoprire sentire la loro gioia le loro speranze i loro sogni le loro sfide i loro timori i loro dolori tramite i film e per fare di questo creiamo un espaço per significativo dialog tra artista e advogati dopo aver guardato i film e vogliamo inspirare il pubblico a join in noi in questo modo in questo modo creeremo abbiamo anche uno spazio per un dialogo significativo tra gli artisti e i soggetti che promuovono che si occupano di infanzia dopo aver guardato i film avremo in effetti tempo per dibattere con il pubblico e noi puntiamo a sfruttare il mezzo narrativo più potente che esista il film il cinema per prima cosa per toccare il cuore le corde del cuore e vi posso assicurare che sicuramente sarete commossi dalle storie che vedrete e poi vorremmo aprire uno spazio per un dialogo che colleghi il cuore al cervello per riflettere valutare possibili azioni provvedimenti che possano fare la differenza e il festival di questo anno come abbiamo già ho visto è considerato una grande parte di UNICEF 75th bianca cilindri cilindri 75 anni di promuovere bianca e equità e ora stiamo a supportare il momento per l'attivamento dei sostenibili svilupposti di svilupposti even though la pandemia ha restricitato l'attività di altri paesi a nostra online platform on mymovies.it come abbiamo già sentito il festival quest'anno è anche un'iniziativa importante nel quadro delle celebrazioni del 75esimo anniversario della fondazione dell'UNICEF 75 anni durante i quali abbiamo promosso i diritti dell'infanzia l'uguaglianza e ora cerchiamo anche di dare una spinta per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile ora anche se la pandemia ha ristretto la partecipazione in loco da altri paesi tramite la piattaforma online mymovies.it ci aspettiamo comunque che virtualmente si possano unire a noi migliaia di persone in tutto il mondo a questo evento che viene organizzata nella bella Firenze nel cuore dell'Italia è una garante che ti trasporta back alla tua childhood while connecting you to the children of the world today we all need to more often take some time to remember childhood as well as our collective responsibility for the childhood of all children everywhere and I thank you for your time prima prima di terminare vorrei esprimere i miei sentiti e sinceri ringraziamenti a tutti i partner che già hanno parlato prima di me e i ringraziamenti vanno anche al governo italiano al ministero degli esteri che hanno sempre generosamente sostenuto il lavoro dell'Unicef e che ci hanno aiutato concretamente per organizzare questo festival cinematografico non vedo l'ora di darvi il benvenuto qui al Unicef e Finocenti Film Festival e vi posso quasi garantire che vi trasporterà indietro vi riporterà indietro la vostra infanzia mettendovi al tempo stesso in collegamento in connessione con i bambini di tutto il mondo credo che abbiamo tutti bisogno di prenderci un po' di tempo per ricordare l'infanzia così come la nostra responsabilità collettiva che abbiamo di fronte ai ragazzi a tutti i ragazzi di tutto il mondo grazie grazie mille per le sue parole e veramente non vediamo l'ora di vedere questi bei film che adesso Dale Rathstein il responsabile dell'organizzazione dell'Unicef Finocenti Film Festival ci passerà a descrivere abbiamo detto Dale sono arrivati tantissimi film quanti ne avete selezionati da quali paesi e se ci vuoi dire un po' i principali titoli 114 countries e and we looked attraverso all'on e e and are very pleased with what we found once again we are very very excited by the beauty diversity the quality of films fiction and non fiction short and feature length and animation that we have in our festival program we have films in the selection that have been made on cell phones by children in the slums of Nairobi all the way to Palme d'Or nominees abbiamo ricevuto 1700 filmati da 114 paesi e siamo stati davvero molto soddisfatti del risultato siamo davvero entusiasti per la bellezza e la qualità dei film opere di fantasia ma anche storie reali corti lungometraggi film d'animazione che abbiamo messo insieme e abbiamo riunito nel nostro programma abbiamo film in selezione che sono stati girati al cellulare da dei ragazzi degli slum di Nairobi ma abbiamo anche candidati alla Palma d'Oro quest'anno poi abbiamo introdotto un vero e proprio concorso all'interno del festival cinematografico e siamo entusiasti di presentare per la prima volta il premio Iris che vediamo come un riconoscimento per film che comunicano qualcosa di commovente di profondo riguardo all'infanzia e vorrei proprio ricordare la cerimonia di premiazione che si terrà qui al termine del festival il 24 ottobre e vi invito caldamente a partecipare a venire chiaramente distribuiremo i premi a tutti i vincitori alcuni saranno presenti qui a Firenze altri saranno collegati da remoto da remoto documentari e i bambini nella pandemia abbiamo organizzato il programma con diverse categorie a tema registi si cresce cronache della disuguaglianza figli di un mondo pericoloso viaggio attraverso genere e identità crescere che fatica che è una categoria che riguarda il benessere mentale ed emotivo un tema molto importante per l'unicef ma per il mondo in generale poi abbiamo anche altre sessioni che si chiamano lungo il cammino nuove forme di documentario e infanzia e pandemia ora vi vorrei presentare molto brevemente solo sei dei film che abbiamo in programma anche se tutti e trentone sotto sono davvero speciali ognuno a modo proprio il primo film è The Right Words dal film franco di Adrienne Moise Doulon questo è una trenta divertente drammatica rinforzata città di scuola tra gli occhi di diversi figli in Parisi di rinforzata di rinforzata Poi abbiamo Scarecrow di Rajesh Prasad Khatri, che è un insegnante, lui lavora come insegnante in un piccolo villaggio di montagna nel Nepal. Il film è una storia molto ben girata di una vivace ragazzina la cui madre la toglie da scuola perché dia una mano nell'attività di famiglia che consiste nella produzione di Spaventapasseri. Poi abbiamo Being Someone Else di Oven Hamley, girato nel Regno Unito, un documentario che ci porta nella vita di una ragazza autistica e ci fa scoprire piano piano quanto si è esclusa da tutto ciò che per la maggior parte dei bambini viene dato per scontato. Poi abbiamo Antara, del regista del Bangladesh Farid Ahmad, un toccante cortometraggio che segue una bambina di cinque anni che cerca di dare un senso alla propria vita nel lockdown dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19. Poi abbiamo The Name of the Sun della regista argentina Martina Matzkin che ci porta in casa di una famiglia che fa del proprio meglio anche se con qualche fatica per amare e sostenere il proprio figlio e fratello transgender. Poi abbiamo The Game, girato da un gruppo di ragazzi di Nairobi, quindi nel Kenya, uno dei miei preferiti, che racconta la storia di un gruppo di ragazzi che non si fermano davanti a nulla pur di poter continuare a giocare al gioco che tanto amano. So, just two quick notes before I finish. First, yes, this festival is profound and it is helping us to learn about really important topics, but really I want to emphasize that first and foremost it's fantastic entertainment. This is really a wonderful time that people will really enjoy. I want to really make sure we are aware of that. Poi vorrei fare un paio di osservazioni prima di concludere. Per prima cosa, questo festival cinematografico certamente ci aiuterà a riflettere, a scoprire alcune tematiche importanti relative all'infanzia e all'adolescenza, ma voglio anche dirvi che comunque vi divertirete molto, è molto godibile, sarà una grande forma di intrattenimento. Also, the films we've chosen are about children and they have not been chosen as films for children. Sometimes when people hear about a film festival for children they think these are films for younger people. Now, most of the films can be enjoyed and can be seen by people of all ages, but we do have both the joy and the pain and sometimes the stories are very heartbreaking. Poi i nostri film trattano di bambini, non sono stati scelti esclusivamente come film per bambini. A volte quando si sente parlare di un festival cinematografico per l'infanzia si pensa che i film siano per ragazzi. In realtà questi film possono essere guardati a tutta l'età, poi certo dipingono le gioie e i dolori che riguardano l'infanzia e a volte le storie sono struggenti. So, please come to the festival, explore the program, enjoy the films, and, very important, participate in the discussion. Open to the public. You all have the list of all the, the journalists have the list of all our films. I'm happy to give more information about any of them later on, but I think right now it's time to see the beautiful trailer that we have produced to help people get a sense of the flavor of this festival. Quindi, venite, venite numerosi, esplorate il programma di proiezioni, godetevi film, partecipate ai dibattiti, questo è molto importante. I giornalisti hanno chiaramente l'elenco di tutti i film che verranno proiettati, sarò ben lieto di darvi maggiori informazioni se vi interessa, ma ora vorrei mostrarvi il trailer che abbiamo preparato proprio per farvi capire qual è il senso di questo festival. Allora, se posso permettermi un attimo, così poi parte il trailer e poi finisce la conferenza stampa. Vi ringrazio di aver partecipato, ringrazio tutti i nostri relatori, ringrazio Emilio alla regia, tutti i nostri colleghi, Patrizia Faustini, Elisa Salvadori, Esveva Fedeli di Lanterne Magiche, tutto l'ufficio stampa, Camilla Silei, lo staff del cinema, la compagnia. Chi fosse interessato ad avere i comunicati stampa può scrivere a press.areacinema.it. Quindi adesso ci possiamo vedere il trailer, vi saluto e grazie mille. Grazie, grazie a tutti per partecipare. I would also like to thank Patrizia Faustini from UNICEF, Lanterne Magiche, the whole staff of Cinema La Compagnia, the director of this press conference. And if you want to ask for more information, you can write to press.areacinema at fst.it. Thank you very much. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.